Ciao a tutti ragazzi, sono il nome del sole e oggi siamo qui a parlare di un personaggio che è uscito in questi giorni e che fa molto scandalo. Bene, come vedete stiamo parlando di Rosa. Rosa è un tank. Qual è la sua abilità? Colpisce non tanto a distanza, ma è meglio veloce e la sua abilità super è quella di creare una corazza attorno a sé, una corazza di foglie dure, no, tipo vegan, che la rende quindi non immune ma comunque le fa sobbire gli attacchi, quindi in poche parole è un attacco del primo che di solito fa 500 di danno a livello 5, le fa tipo 50 di danno per dire, quindi è tipo OP e questo fa molto scandalo perché comunque da molti video è emesso che se Rosa utilizza la super è in grado di battere qualsiasi personaggio presente in loro stash, nessuno è scritto, nemmeno quelli che attaccano a distanza, perché in grado di raccinarsi non prendere tante botte, suonare indietro e fargli il culo. Detto questo, siccome io sono uno che dice le cose e poi le prova, mi va di utilizzare Rosa, provarla e fargli vedere che quello che hai detto non è una cagata fotonica ma è la vita. Come vedete fa danno ravvicinato, fa tanto danno ma... Ok, sono con Mastro Cacca e Mastro Cacca non ha fatto un cazzo però è in frattempo con il ruolo di Emotion, quindi è che adesso utilizziamo la Super, non sono in grado di utilizzare l'Eugênio, non ha fatto un cazzo, non ha fatto qualcosa tipo Mastro Cacca e Mastro Cacca e Mastro Cacca e Mastro Cacca e Mastro Cacca. Ok, quello roto fai un po' giù con la cassa, bravo. Ok, con la Piper potrebbe diventare il mio problema principale. Quello roto tanto ha fatto un po' di danni. Ehm, quello del primo! Ehm, niente, m'ha ucciso Poccio. Tanto non ho manco visto come m'ha ucciso. Quello roto non è stato in grado di fare qualcosa di sensato, quindi abbiamo perso di nuovo. Qui prende! Raga, ma solo io stasera mi sto beccando con i nomi strani? Ok, la c'è un Frank che potrebbe darmi paesi problemi. Ok, facciamo che mi tolgo. Inizio a camperarmi da qualche parte con questo perfetto. Aspettiamo il trono del mio compare. Speriamo che i trono di prima di mezzanotte. Ok, ci siamo. Frank la, con 4 potenziamenti. Diciamo che non è al massimo andare a prendere un Frank con 4 potenziamenti. Quindi, vieni qua a terra. Vieni qua, vieni qua. Non, 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 non. Non è proprio il caso di andare a pixelare con la terra là. Ma c'è un potenziamento. Vabbè, sentite raga, io vado a camperare. Prato con Super, se vedete. Rosa, oltre che più forte, più resistente, diventa anche più veloce. Raga? Raga? Per un attimo ci ho anche sperato che quello lì piacesse a fare qualcosa, però ovviamente non è in grado. Adesso vediamo il mio compagno, ovviamente è partito 20 anni dopo. Come si chiama il mio compagno? Guardate un colto visto che c'ho come compagno, probabilmente c'ho all'istante. Eh, Kevin. Kevin è morto, ma la soltà è merda, ok, perfetto. Prendiamo i due potenti potenzialmente, ne abbiamo cinque potenzialmente. Faccio un Leon, faccio una Shelly che mi farà fare più male, però. Quindi quale ho? Maledetto pezzo di cane. Mi conviene camperare in queste partite, perché sennò continuo perdendo fra i cacchi di cane. Quindi il telefono. Già sai due diversi, perché sono più forti. Mario Borrelli. Ciao Mario, piacere, io sono Anton. Non bevo da... Da di sera. Mi piace la pasta, non so che. Oh, Mario usa Carl. Ehi, primo. La pasta è buona. Egalite gamer. Egalite gamer che è stato prescelato. Egalite gamer che è stato prescelato. Picchiamo il primo. Perfetto. Un cazzo. Perché sono morto. Come uno schifo. Umano. Vai Carl, stai camperato. Stai camperà, camperà. La si stanno picchiando, ma tipo troppa gente. Quindi no, non mi conviene. Ah, lassù c'è il tizio di il compari di la rete gamer. La Demolition Man. E' stato il tier 2. C'hanno il long road fantastico. Stupendi quasi. Uuuuuh, no, 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 no. Non me lo fai più uccidere. Grande Mario. Raga, Mario è fortissimo. No Mario. No, non fa il che errore. Non fa il che errore, giù, credo. Con il bombardino laggiù, penso che possa dare paichi problemi. Colcarlo da fuori. Mi sta picchiando. Vai Mario, Mario, Mario. Scappa, 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 scappa. Recupera salute. Recupera, 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 recupera. No, no, no. Lo detto recupera salute. Non muoiono. Raga, io vi ringrazio anche oggi per aver guardato questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e mi piace. Iscrivetevi al canale. Se siete già iscritti, andate come al solito nei vari profili che trovate in descrizione. Se invece non siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate la campanellina. E consigliate questo canale a qualche amico. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.